incendio nel capannone della profil glass a bellocchi di fano screening scuole sicure parte il nuovo giro di tamponi nelle scuole superiori sit-in di fratelli d'italia al monumento della resistenza passa anche in consiglio l'acquisizione di villa marina da parte del comune di pesaro benvenuti al nostro telegiornale oggi è martedì 13 aprile questa sera partiamo con una notizia flash di cronaca ci spostiamo a fano perché oggi pomeriggio si è generato un vasto incendio intorno alle 14 e 30 nella zona industriale di bellocchi di fano più precisamente all'interno di un capannone dello stabilimento profil glass secondo le prime ricostruzioni dei vigili del fuoco a prendere fuoco sarebbero stati alcuni scarti di lavorazione d'alluminio nessuna persona è rimasta ferita e anche il rischio crollo della struttura è stato escluso la grande colonna di fumo nero levata sinaria si è resa visibile anche a diversi chilometri di distanza dall'area sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di fano e di pesaro con 14 unità e 5 automezzi e dopo le scuole medie è partito questa mattina il nuovo turno di screening e tamponi rapidi destinato agli istituti superiori di pesaro questa mattina allora noi siamo andati al campus scolastico vediamo il servizio nuovo turno di screening che parte oggi anche per le scuole superiori della città dopo le scuole medie la scorsa settimana con oltre 1500 tamponi rapidi effettuati e 26 casi positivi riscontrati partono oggi quindi test riservati alle scuole superiori i primi studenti degli istituti secondari interessati quindi da questo nuovo turno di screening saranno quelli del mamiane del bramante ma anche quelli del cecchi e del mengaroni insieme alla nuova scuola io sono sempre stata favorevole a questo discorso dello screening e quindi sono ben contenta che si possa fare certo l'interruzione adesso della vaccinazione non un po ecco ci ha così creato magari no qualche perplessità in più però almeno ecco avere la certezza che insomma ecco eventuali situazioni di positività possano essere messe subito no a riparo da altri contagi credo che sia una strada che ho visto insomma anche dal governo centrale no viene indicata come diciamo una possibile così in attesa che anche i nostri ragazzi possano essere vaccinati come l'unica strada per poter appunto preservare un po' insomma la diffusione di questo virus l'adesione è stata ottimale parliamo di 29 classi coinvolte questa mattina quindi circa 600 e 650 studenti e l'affluenza è stata sicuramente intorno al 70 per cento quindi superiore a quella delle altre occasioni in cui è stato fatto lo screening quindi assolutamente grati per questa iniziativa e anche per il risultato perché a fronte di un gran numero di studenti che hanno partecipato abbiamo avuto soltanto un caso sospetto di cui appunto sapremo con certezza i risultati nel giro di un paio di giorni ma il resto è diciamo tutto negativo che significa e conferma che la scuola non è un luogo di contagio quindi il problema eventualmente sono appunto diciamo le altre occasioni di socialità per i ragazzi ma non certo la scuola. I ragazzi hanno risposto positivamente le proprie famiglie ringrazio i dirigenti scolastici perché c'è stata grande sensibilità grande attenzione riconoscono che è uno strumento necessario per restare in classe in sicurezza per evitare i contagi ma lo dicono anche gli stessi sanitari che sono coinvolti qua in questo screening sono sanitari che hanno smontato la notte e il mattino sono qua quindi dopo ore e ore in ospedale ritengono che questo strumento che ha attivato l'amministrazione comunale sia uno strumento necessario per continuare l'anno in sicurezza per finirlo ma anche per limitare i contagi ci stanno dicendo insomma che ci sono ancora purtroppo tante persone in terapia intensiva e quindi noi vogliamo arrivare cioè vogliamo evitare che si arrivi in quel momento lì. Ricordiamo quindi poi che per questo screening delle superiori è stata prevista una misura aggiuntiva ovvero dopo il test rapido in eventuali casi di positività riscontrati appunto dal tampone rapido subito quello molecolare. Esatto quindi nel caso in cui il ragazzo risulta positivo al test rapido premesso che non verrà fatto solamente una volta il test rapido ma lo stesso ragazzo gli verrà fatto almeno tre volte il test rapido nel caso in cui è positivo gli verrà subito fatto il test molecolare abbiamo un kit disponibile in automatico manderemo il risultato al laboratorio di analisi che nell'arco di 24 ore ci darà il risultato del test questo serve per evitare diciamo magari periodi di quarantene non necessarie perché l'obiettivo ripete quello di tenere i ragazzi a scuola in sicurezza. È un evento di notevole importanza che può comportare la sicurezza e portare la sicurezza nelle nostre scuole stiamo facendo uno screening che sarà molto utile e penso che anche se leggermente costoso magari possa anche far risparmiare dal punto di vista della salute dei ragazzi e dei pazienti che si ricoverano costantemente tutti i giorni in rianimazione. I numeri e i dati di questa mattina cosa raccontano? Per il momento abbiamo trovato due possibili positivi ai quali è stato fatto il molecolare ma su un diciamo ammontare di credo 400-500 persone. E torniamo a parlare di cronaca perché la guardia di finanza di Pesaro Urbino dopo il sequestro effettuato durante la festività natalizia ad inizio anno di circa 30.000 articoli ha intensificato l'attività di controllo economico sul territorio volta proprio a tutelare il consumatore. In particolare nell'ambito di controlli in sei diversi esercizi commerciali di Fano sono stati sequestrati oltre 3.300 prodotti costituiti da bigiotteria, accessori moda, articoli per la casa nonché da mascherina FFP2. Tutti prodotti non conformi alla normativa in materia di sicurezza e dunque potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Gli articoli sono stati sequestrati e ritirati dal mercato e i relativi responsabili sono stati segnalati alla Camera di Commercio per la definizione delle sanzioni amministrative che prevedono multe anche fino a 25.800 euro. Ed ora la pagina relativa ai dati Covid sul nostro territorio. Il Servizio Sanità della Regione Marchi ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3.770 tamponi, 2.022 nel percorso nuove diagnosi, 1.748 nel percorso guariti. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 222 con 65 casi riscontrati nella provincia di Pesaro e Urbino. 11 invece i decessi notificati nella serata di ieri. Nessuna delle vittime era residente nella provincia pesarese. Più controlli e maggiore sicurezza per l'area ospitante il Monumento della Resistenza, zona nella quale si ripetono ormai da tempo episodi di cronaca e anche bivacchi. È partito da queste basi il sit-in di Fratelli d'Italia andato in scena ieri pomeriggio durante il quale gli esponenti comunali, regionali ma anche nazionali del partito hanno sottolineato un'attenzione non sufficiente per il degrado e la messa in sicurezza dell'area da parte del sindaco di Pesaro Matteo Ricci. E allora vediamo quello che hanno raccontato. Siamo qui al fianco dei nostri dirigenti e rappresentanti del territorio perché la sicurezza è un tema serio che va affrontato soprattutto nelle nostre più grandi città sia nella provincia di Pesaro che in altri luoghi della nostra regione. Qui siamo in un luogo simbolo ma siamo a offrire anche la nostra collaborazione, quella collaborazione che spesso non troviamo in altri enti molto dediti a tante apparizioni e a poca concretezza. Quindi collaborazione a tutti i livelli a partire dalla sanità passando per il mezzo delle infrastrutture fino ad arrivare alla sicurezza. Chiaramente come diceva l'assessore questo è un luogo simbolo e purtroppo ormai teatro da molti anni di tantissimi eventi di cronaca, di spaccio, di droga. È un problema ormai irrisolto, è un problema che noi vogliamo tenere alto come attenzione anche come regione e quindi siamo qui proprio per questo, per sostenere fortemente questa iniziativa di Fratelli d'Italia Pesaro, del circolo di Fratelli d'Italia Pesaro. Quindi grazie anche a voi che siete venuti qui per testimoniare nuovamente quello che vedete anche con i vostri occhi e chiediamo una forte attenzione, l'attenzione nei confronti di questi che sono i problemi, quelli seri, quelli veri della città e quindi meno apparizioni ma sicuramente più concretezza nel risolvere questi problemi una volta per tutte. Non basta soluzioni spot ma è necessario veramente porre un rimedio definitivo questa cosa. In parchi come questo si denota quello che sta accadendo in Italia che è drammatico. Ci sono i cittadini italiani chiusi in casa in possibilità di frequentare i ristoranti, le palestre e invece in alcuni luoghi, territori franchi, ci sono alcuni soggetti che delinquono liberamente, che non indossano le mascherine, che magari utilizzano quella che è un'attività criminale per andare avanti, lo spaccio, a volte si parla anche di prostituzione. In questo caso specifico noi abbiamo visto, mano a mano garantiamo la nostra presenza all'interno di questo parco, sparire quelli che invece vi delinquono quotidianamente. Ovviamente Fratelli Italia non deve fare il vigilante, Fratelli Italia deve denunciare quello che avviene e che i cittadini di Pesaro conoscono sperando che invece l'amministrazione comunale possa ricominciare ad attenzionare queste criticità e a guardare con più attenzione il proprio territorio. Pensiamo che come sindaco Matteo Ricci dovrebbe pensare un pochino più alla città e aver meno esposizione mediatica magari su argomenti che poi non sarebbero neanche di sua competenza. Noi proponiamo che appunto il sindaco pensi un pochino più alla società, questo è un luogo simbolo per noi perché è diventato praticamente il centro del degrado di Pesaro, uno dei centri dove c'è spazio praticamente a tutte le ore e purtroppo anche si sono verificati anche episodi di prostituzione, tant'è che io feci non tanto tempo fa una mozione per aumentare l'illuminazione del posto ed è stata bocciata dicendo che era stato già fatto, poi ho mostrato come qua quando si fa buio ci sono tante zone ombra dove purtroppo la delinquenza è favorita. Basterebbe poco poi, basterebbe mettere dei punti luce in maniera un pochino più intelligente per fare da deterrente a quello che succede in questa zona qua, in questo monumento della resistenza. Passa anche in consiglio comunale il progetto dell'amministrazione relativo all'acquisto di parte del complesso di Villa Marina, operazione appoggiata dai gruppi di maggioranza e dal Movimento 5 Stelle mentre i consiglieri di centrodestra si sono astenuti alla votazione. Sì, dal consiglio comunale al progetto per Villa Marina. È passata infatti la delibera di acquisizione da parte del Comune di Pesaro della parte lato monte del complesso di Villa Marina, per un costo complessivo di 1 milione e 320 mila euro. Il progetto, come già anticipato nelle scorse settimane, prevede l'acquisto e l'affidamento gestionale dell'area sportiva del complesso, insieme alla realizzazione del parcheggio gratuito da 200 posti, già sperimentato la scorsa estate e accompagnata dal ritorno dell'area pedonale in Viale Trieste. Con questa delibera l'amministrazione comunale si mette nelle condizioni di poter fare un'operazione virtuosa sotto due punti di vista. Il primo è quello di poter ridestinare quelle aree a una funzionalità che è nell'interesse di tutta la comunità. Mi riferisco in particolar modo all'area che verrà destinata alla sosta, quindi un'area importante che potrebbe potenzialmente dare la possibilità di sostare a più di 200 vetture e questo ci consentirà anche di poter intraprendere delle scelte coraggiose che l'anno scorso abbiamo sperimentato, che possono essere sicuramente migliorate, riviste integrate, ma che ci consentiranno di poter rendere il lungomare sempre più misura d'uomo. L'ufficio sport sta già lavorando alla costruzione di un bando per l'assegnazione di quella che è l'area sportiva, quindi l'area che include di fatto già una palestra degli impianti sportivi affinché questa possa tornare ad essere un luogo importante e centrale da un punto di vista anche della vivacità, del dinamismo e dell'attività della città. Tra i voti favorevoli al progetto anche quelli dei consiglieri del Movimento 5 Stelle. Anche il Movimento 5 Stelle è favorevole a questa delibera perché ci vediamo molto di più che l'acquisizione di un parchetto, ci vediamo un progetto dietro, un progetto importante che abbiamo sostenuto e che continuiamo a sostenere, che è quello della pedonalizzazione di Valle Trieste, altro che consumo di suolo, altro che sfruttamento dell'automobile, qui si va quello che significa veramente mobilità sostenibile. Astenuti invece i gruppi di centrodestra. Il consigliere della Lega Dario Andreolli, valutando positivamente l'acquisto dell'area, ha espresso criticità sulle destinazioni d'uso sia per la zona parcheggio che per quella sportiva, mentre il consigliere di Forza Italia Michele Redaelli ha sottolineato la volontà di condividere le finalità del progetto con il quartiere di riferimento. In particolare per quanto riguarda quella di vita parcheggio, relazionandola anche in combinazione con l'idea, la possibilità della pedonalizzazione di Viale Trieste, lo scorso anno ci sono state parecchie criticità evidenziate soprattutto dal consiglio di quartiere di riferimento. Per questo motivo ci tengo a richiedere, a ribadire anche un passaggio in consiglio di quartiere prima della definizione definitiva di questi utilizzi. A prendere parola durante la seduta per intervenire in merito ai dubbi sollevati è stato anche il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Non abbiamo deciso di fare l'area pedonale senza porci il problema della mobilità e della sosta in quell'area. La scelta di acquistare l'area a Monte di Viale Trieste di Villa Marina per farci un parcheggio definitivo è una scelta strategica perché non dice facciamo l'area pedonale e ce ne freghiamo di coloro che non trovano il posto per venire al mare. Visto che comunque acquistiamo e realizziamo un parcheggio, quindi spendiamo, ci siamo posti anche di recuperare, proprio perché abbiamo un bilancio virtuoso e deve rimanere tale, di recuperare la parte di mutuo che andiamo a pagare ogni anno per l'acquisto, per la realizzazione del parcheggio mettendo a bando ed è quello che avverrà nei prossimi giorni, l'area sportiva. È il sottotenente Antonio Bruno Lanza, 52 anni, il nuovo comandante del nucleo operativo e radiomobile di Fano. Arruolato nell'arma dal 1989, Lanza ha prestato servizio in tanti e diversi settori, partecipando attivamente anche ad operazioni contro la criminalità organizzata siciliana e contro la camorra campana. Nell'ultimo decennio è stato comandante della stazione dei carabinieri del comune di Noci, in provincia di Bari. Nascerà a Muraglia l'innovativo Trail Park Pista 100% Green, destinata alla pratica della mountain bike. Sarà realizzato in piazza Alfieri nei prossimi mesi e il costo è di circa 50 mila euro. La cifra comprende anche la sistemazione della recinzione e della riqualificazione della pista da skate adiacente. Grazie all'iniziativa del Presidente del Consiglio Comunale Marco Perugini, da oggi sarà possibile laurearsi in comune. La sala consigliare della residenza municipale sarà a disposizione dei laureandi per la discussione in modalità streaming della tesi di laurea. Gli interessati potranno fare domanda di utilizzo gratuito della sala, compilando almeno 15 giorni prima della data prevista per la discussione il modulo presente sul sito del comune. Il laureando sarà poi ricontattato dall'amministrazione per i dettagli della procedura. Ed ora la consueta pagina dedicata alle vostre segnalazioni. Oggi un telespettatore ci ha segnalato la situazione registrata lungo strada della Blilla. Siamo nella zona chiusa di Ginestreto, Villa Ceccolini, dove in seguito all'abbattimento di alcune piante secche presenti nell'area è mancata da parte degli addetti preposti una corretta operazione poi di pulizia e smaltimento dei rami e altri residui degli arbusti che sono stati quindi abbandonati ai margini della careggiata. I residenti della zona fanno presente che si tratta di una strada a grande percorrenza e molto trafficata che oltre a questo intervento di pulizia necessiterebbe anche di una manutenzione e di alcuni accorgimenti dal punto di vista della sicurezza, come per esempio un'adeguata segnaletica. E allora ringraziamo il nostro telespettatore per averci segnalato questa disfunzione, questo disagio. Noi chiaramente rigireremo questo che ci è stato inviato alle persone competenti sperando che si possa fare al più presto qualcosa. Intanto cambiamo completamente argomento perché arriva dalla Camera di Commercio delle Marche un importante contributo per valorizzare e sostenere l'offerta formativa degli istituti tecnici superiori della regione, tra cui figura anche l'Istituto Turismo, Marche e Nuove Tecnologie di Fano. I dettagli in questo prossimo servizio. Un bando da 250 mila euro per sostenere l'offerta formativa degli istituti tecnici superiori della regione. È il contributo che la Camera di Commercio delle Marche ha deciso di programmare per i quattro ITS delle Marche, tra cui figura anche l'Istituto Turismo, Marche e Nuove Tecnologie di Fano, che presenteranno entro il 31 luglio progetti innovativi di orientamento al lavoro e alle professioni. 50 mila euro saranno inoltre destinati al recupero della dispersione scolastica, a sostegno quindi degli studenti in situazioni di fragilità, e altri 30 mila euro saranno programmati invece per sostenere percorsi di alternanza scuola-lavoro. Sono scuole di primo livello grazie a docenti di qualità e di grande esperienza, grazie ai laboratori che rappresentano l'anticamera delle aziende, grazie agli imprenditori che condividono con gli studenti le loro esperienze. Non dirò mai a nessuno che non è importante laurearsi, ci mancherebbe, ma evidenzio che il 35% dei posti di lavoro che si creano nei prossimi anni in Europa saranno destinati a qualifiche elevate. Significa che essere in possesso di un diploma di istruzione terziario o equivalente farà crescere notevolmente la possibilità di avere un lavoro. E gli ITS rappresentano un canale alternativo all'università. Sono particolarmente orgoglioso anche di annunciarvi che il nostro ente, in collaborazione con l'Union Camere Nazionale, metterà delle risorse a disposizione di quei studenti e studentesse che hanno forzatamente abbandonato i corsi ITS perché loro stessi o i loro genitori purtroppo sono stati coinvolti da questa pandemia. Un rimborso per consentire loro di riprendere il percorso che stavano lasciando. Apprezzo molto in questa fase di difficoltà l'approccio che ad esempio ho con il mondo imprenditoriale della nostra regione, con gli istituti, diciamo così, che tendono come gli ITS a reinserire, a fare in modo di reinserire nel mondo del lavoro le persone in questo nostro territorio, in questa nostra regione. Quindi apprezzo il fatto che ci sia una responsabilità ben marcata di chi è protagonista di questi percorsi, ci siamo incontrati che nelle scorse ore con i vari direttori eccetera, di questi istituti, che possono essere, anzi sono sicuramente un volano fondamentale per affrontare nel miglior modo possibile questa fase che avremo di fronte di grande crisi del lavoro. Rivendicare un reddito di base per diminuire le disuguaglianze economiche e limitare quanto più possibile i danni e la perdita di lavoro generati dalla crisi del Covid. Con queste richieste nelle scorse giornate il movimento dipende da noi ha manifestato in Piazza del Popolo. Siamo in piazza perché purtroppo non vediamo assolutamente un atteggiamento costruttivo in un momento di pandemia come questo e quindi c'è stata indetta una giornata da un movimento, da una rete di movimenti che raccoglie più di 1800 soggetti tra individuali e organizzati che si chiama Società della Cura ed è una rete che cerca di mettere al centro tutti i temi che secondo noi coinvolgono oggi l'umanità, non solo i nostri cittadini. Cerco di sintetizzare velocemente, a fronte del Recovery Plan la Società della Cura propone il Recovery Planet e comincia ad analizzare punto per punto tutte quelle che sono le proposte. Un esempio brevissimo, riteniamo assurdo, incrementare le spese militari perché il Recovery Plan chiede di aumentare le spese militari agli stati per avere i soldi a fronte della necessità sanitaria che abbiamo, oppure continuare a pagare vaccini che possiamo produrre da soli, magari paghiamo un brevetto ma perché gli stati non si riproducono, perché vengono rifiutati, siamo in pandemia, tutto questo assieme è il motivo generale. Poi all'interno di questo Recovery Plan ci sono tanti punti, noi qui per peso abbiamo scelto quello del lavoro perché ovviamente il lavoro, senza lavoro le persone dopo un anno che sono chiuse in casa si avvicinano non solo a depressione ma anche a difficoltà reali e quindi sosteniamo un reddito universale per tutti a fronte di questa crisi. Io credo sia sotto gli occhi di tutti l'aumento delle disanguaglianze, cioè in un momento dove la gente a casa deve tirare la cinga, non ha i soldi, gli stati fanno fatica a mantenere questa assistenza perché la gente non lavora, c'è che fa dei profitti enormi, pensate solo ai vaccini, 20 euro vaccini per miliardi di vaccini da produrre e neanche mollano i brevetti, c'è una cosa secondo me allucinante, non ci si può arricchire di fronte a una pandemia grazie ad una pandemia perché vuol dire veramente essere arrivati a un livello di cinismo mostruoso. Grazie a tutti. Andiamo con la programmazione di Rossini TV partendo dalla nostra prima serata, questa sera martedì vi facciamo rivedere questo nostro format di successo dedicato ai bambini Jokart in collaborazione con Pesaro Village, quindi non perdetevi l'appuntamento assieme ai vostri bimbi alle ore 21 e 15. E poi come tutti i martedì e anche giovedì torna una nuova puntata di Spazio Web Live, stasera alle 22 e 15 è una serata dedicata alla buona buonissima musica, conosciamogli Amanda, in questo bel approfondimento e intervista fatta da Michele Panzieri e Topazio Perlini, quindi ore 22 e 15. E poi domani una puntata ricchissima di ospiti d'eccezione. Infatti domani a Casa Rossini alle ore 10 in diretta TV e anche diretta Facebook avremo Roberto Bartolini che vi darà delle informazioni per quanto riguarda la grafologia. Tra l'altro avete già inviato i vostri scritti al 351 70 89977. Se non l'avete ancora fatto mandateci un testo in cui scrivete 4-5 righe e Roberto Bartolini vi farà l'interpretazione grafologica. E poi ci sarà con noi il titolare di Xanitalia Franco Signoretti e poi ancora parleremo di musica con Francesco Gazzè, fratello di Max Gazzè che è autore ed editore musicale, ci racconterà insomma come nascono le sue bellissime canzoni. Quindi una puntata davvero da non perdere, quella di domani mattina. E ricordiamo anche che domani mercoledì 14 aprile su Rossini TV vedrete la trasmissione in diretta della conferenza stampa di presentazione del nuovo sponsor che supporterà il Pesaro Calcio a 5, l'Ital Service Calcio a 5. Quindi domani alle ore 16 conosceremo Banca Mediolanum in questa diretta esclusiva sul canale 633. E non perdetevi anche la rassegna stampa di domani alle 7.20, noi saremo in diretta come sempre sul canale 633 Rossini TV ma anche sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito internet rossinitv.it. Grazie e buona serata a tutti voi.